Musica Amici sportivi a tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati per la 26esima puntata stagionale di A Tempo di Atletica qui dalla pista coperta dell'impianto Campo Scuola Moreno Martini di Lucca, ospiti dell'Atletica Virtus. Una puntata monotematica dedicata alle vicende della Virtus perché sulla Virtus ci sono tante cose da dire anche in prospettiva proprio a breve termine perché nel giro di qualche settimana proprio qui a pochi metri da dove stiamo realizzando questa puntata avverranno. Ci auguriamo grandi cose, sicuramente sono in programma grandi manifestazioni con dei nomi sempre altisonanti, l'ultimo l'avete appreso proprio in queste ore. Vado a presentarvi i graditissimi ospiti di questa puntata, sono con noi Dario Fazzi, buonasera Dario. Buonasera Guido. Grazie di averci ancora, di essere tornato a trovarci. E Gabriele Gianbastiani, buonasera anche a te Gabriele. Buonasera. E grazie anche a te, e grazie a Gabriele che poi lo diremo è uomo di atletica ma è uomo di sport a tutto tondo, è anche uomo delle nevi. Sì. No, scherzo naturalmente. Allora ragazzi, intanto io prima di parlare del CDS che tra l'altro, dove tra l'altro Dario sarà speriamo anche uno dei protagonisti del meeting, poi non so se gareggerai anche lì, e vorrei parlare invece di quello che avete vissuto fino a pochi giorni fa. Comincio proprio da te Dario. Clinic a Padova, eh? E cosa consisteva? C'erano, so, anche dei grandi campioni tipo, insomma, Omar McLeod che gli appassionati di atletica ricorderanno campione olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro sui 110 ostacoli. Certo, no, praticamente consisteva nell'affiancamento di un allenatore naturalmente di alto livello che è in questo caso Marco Erale, che ringraziamo anche per l'ospitalità. Che è un amico della Virtus. Che è un amico della Virtus. È stato qui, se non sbaglio, anche, no? Certo, è stato qua giù e ritornerà, speriamo. Praticamente noi siamo arrivati la giovedì, dove abbiamo affiancato lui e il suo gruppo di atleti nel corso dei loro allenamenti. Durante gli allenamenti lui ci spiegava le sue modalità, quindi le sue modalità di allenamento, la sua programmazione, e avevamo anche l'opportunità di vedere atleti d'elite allenarsi tutti insieme. Adimi, oltre a McLeod, che ho saputo c'era, chi altri? C'era anche la Henderson, che è arrivata seconda ai mondiali di Eugene. Questi sono atleti che segue Erale? Che segue Marco Erale, esatto, sì. Beh, insomma, mi sembra un bel riconoscimento per la sua capacità, per la sua bravura. Certo, poi sicuramente è un tecnico molto da valorizzare, poiché è riuscito, sicuramente studiando e formandosi, a farsi anche un curriculum che in pochi vantano in Italia, e questo sicuramente ne è un banto per lui, e tanti complimenti. Gabriele, tra l'altro Marco Erale è anche, se non ricordo male, per quello che ricordo quando è venuto qui da noi qualche mese fa, è ancora relativamente giovane, e questo dimostra veramente che siamo di fronte ad uno che potrebbe, nel suo settore, scrivere, perché no, pagine importanti, se atleti di quel livello, come abbiamo ricordato, si rivolgono a lui. Sì, diciamo che lui è riuscito già a questa giovanità a farsi un bel curriculum, e quindi ora ha tanti atleti che chiedono di lui per andarsi a allenare con lui, perché effettivamente sta avendo risultati, e poi come ha detto Dario, è una persona che ha studiato molto, ci dedica molto tempo, abbiamo visto quanto è preciso in quello che fa, quindi penso che sia anche giusto che sta avendo un po' il successo che gli stanno dando anche gli atleti, cioè tanti atleti di elite vanno a cercare di richiedere proprio Marco. Tu l'hai vissuto, mentre Dario probabilmente l'ha vissuto ancora più da atleta, tu l'hai vissuto più da, a tua volta, da giovane tecnico, no? Visto che segui l'atletica, poi ne parleremo, segui anche il biatron con il gruppo sportivo La Focolaccia. Sì, diciamo che io sono andato là già con l'idea, visto che seguo il gruppo dei cadetti qui a Lucca, con l'idea che comunque tante cose le dovevo prendere e un po' rivisitare, diciamo. Apprendere, sviluppare e rivisitare. E rivisitarle per i cadetti, perché ovviamente non puoi far fare le solite cose a dei ragazzi che fanno gente di elite, ovviamente hanno due tipi di fisici diversi e bisogna un attimo saper prendere le cose buone, trasformarle e adattarle ai cadetti. Perché il vostro gruppo di cadetti, parliamo di ragazzi di quanto, 15, 16 anni? Siamo in terza media e prima superiore. Eh no, anche meno, quindi 14, 15 anni. Sì, meno, sì. Cos'è una cosa che ti è rimasta impresso? Poi la stessa domanda la voglio fare anche a Dario, lui forse l'ha vissuta anche più da atleta, in piena attività agonistica. Una cosa di questi tre giorni che ti è rimasta impressa? Che una cosa che mi è rimasta molto impressa è che a differenza di come si possa pensare, comunque cerca sempre di far tutto in un ambiente molto tranquillo, cioè senza mai stare troppo a pressare gli atleti, ma anzi li tiene molto… Familiare, colloquiale. Esatto, un ambiente tranquillo. Quello che cerco di fare anche a tempo di atletica, non è che… Sì. È vero Dario? E infatti secondo me è una cosa che mi ha stupito perché sì, c'è tanta professionalità, ma allo stesso tempo non sfocia in una cosa tutta di disciplina, così cerca sempre di… Troppo rigida, no? Esatto. Prova a indovinare, ti sei sentito a tuo agio? Sì, sì, sì. È così? Sì, anche perché anch'io con i ragazzi cerco di fare… Eh beh, è certo, è certo se diventa, non dico un gioco, perché a 14, 15 anni non è più, forse neppure solo un gioco, se però i ragazzi si sentono al loro agio, si divertono… Esatto. Nel rispetto delle regole, è tutto, cambia, questo forse, permettimi di dire, è uno dei segreti, non dico il più importante, ma uno dei più importanti. Dario, tu, vabbè, l'hai vissuto anche da atleta a questo clinic, cosa… Certo. Anche te cos'è che ti ha colpito, cosa ti ha impressionato? Stessa cosa molto simile a Gabriele, il lato psicologico, dove lui punta molto. Naturalmente, lui ci ha spiegato che è importantissima da parte di programmazione, ma quando ha a che fare con questi atleti, la cosa più importante è il loro stato mentale. Quindi, anche lui ha detto, io sono il loro allenatore, ma sono anche il loro psicologo, tra virgolette, nel senso che con me si confidano, con me mi dicono i loro sogni, i loro pensieri, è una cosa importantissima perché io so come stanno, più che altro anche dal punto di vista fondamentale. Perché quando ha a che fare con questi campioni, non devi fare cavolate sul lato della programmazione, ma è qui che proprio si capisce la testa del campione. Quindi, quando ci sono di testa, anche lui dice che possono fare molto più che con una programmazione leggermente diversa. Ecco, che poi, naturalmente, parliamo, poi fra poco parleremo anche dell'ultimo grande colpo del terzo meeting Città di Lucca. Parliamo di campioni, li vediamo in televisione, mondiali, le Olimpiadi, e sembrano lassù irraggiungibili. In realtà sono poi ragazzi, ragazze di 25, 30, magari certe volte anche di 35 anni, anche con tutto il loro talento, la loro forza, ma anche con tutte le loro fragilità, no? Giusto, Dario? È così, penso, no? Certo, anche lui ci ha spiegato come spesso loro arrivano al campo, che naturalmente uno come McLeod, in un contesto del genere, è un po' il leader del gruppo. E ci ha spiegato come anche il lato mentale di magari questi leader possa leggermente andare a influenzare anche tutti gli altri. Condiziona, certamente, perché se crea il gruppo, veramente, ora si parla di gruppo in tante cose, dal calcio a tanti sport, ma in realtà il concetto di gruppo è quello che si crea. Poi è chiaro che le vittorie fanno anche un po' la differenza, perché se poi fare il gruppo quando si vince è più facile, facevate solo lezioni teoriche, Gabriele, come ha funzionato? No, allora, in verità noi assistevamo direttamente agli allenamenti, quindi noi durante l'allenamento avevamo la possibilità di vedere quello che facevano gli atleti e mentre Airale metteva in pratica quello che dovevano fare, noi eravamo liberissimi di fare domande su tutte le cose che ci venivano in mente e lui ha risposto su... Sono state solo voi due della Virtus? Sì, esatto. Beh, insomma, è stata una bella cosa, penso molto utile anche per voi, no? Sì, certo, abbiamo veramente avuto la possibilità, soprattutto mi viene in mente il secondo giorno di fare talmente tante domande che quasi l'ultimo giorno ci siamo più goduti l'allenamento. L'abbiamo fatto qualche domanda anche l'ultimo giorno ma nel secondo giorno abbiamo fatto veramente tante domande e lui ha saputo rispondere a tutte con estrema disponibilità, veramente è una persona molto disponibile. Qualche quattrocentista buono c'era, Dario? Allora, direttamente con noi non c'erano quattrocentisti, anche se comunque sia Marco segue la Trevisan, che è quattrocentista italiana, che è andata molto bene questo fine settimana, ha fatto un grande esordio in America, però comunque sia con noi c'erano grandissimi atleti, comunque sia tra cui c'era anche Adam Gemili, velocista inglese, e poi tra quelli che segue che non erano lì presenti c'è anche Jeremia Azzu, che è dieci netti, ha fatto questo fine settimana. Quindi insomma segue veramente atleti di alto spessore, oppure la Hunt, un'altra velocista inglese da 11.1, quindi un sacco, una grande litta di atleti segue. Beh, un'esperienza sia per Dario che per Gabriele sicuramente molto utile. Noi ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria. Quando torniamo ripartiremo con un nome altisonante, è stato annunciato proprio poche ore fa qui dalla Virtus, perché qui a quanto saremo? Saremo dalla pedana del Giavellotto a 100 metri, 150 metri, lancerà il signor Ioannes Fettar, sarebbe Fettar, scritto veramente un numero uno nella specialità al mondo. Torniamo tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di A Tempo di Atletica, 26esima puntata stagionale, con gli amici della Virtus Lucca, con Dario Fazzi e Gabriele Giambastiani. Voglio ripartire proprio da Dario. Prima di passare a Fetter, che abbiamo annunciato al meeting, al CDS, perché qui l'11 e il 12 ci sarà anche la fase regionale dei campionati di società, dove bisogna assicurarsi intanto il punteggio. Eh Dario? Il nostro Simone Andreucetti adesso proporrà una fotografia, che poi credo sia la stessa, più o meno un campo più largo, un campo più stretto. Ci siete voi due e chi altri Dario? Chi altro possiamo vedere i cinque sledi che erano con noi presenti? Ah, sono loro questi? Sono Mark McLeod, Adam Gemili, poi troviamo la Henderson, l'ostacolista, prima non citata la Nata, velocista inglese, e poi Federico Guglielmi, che è l'italiano seguito appunto da Erale dei Carabinieri. Ma mi dicono, non lo so, tu naturalmente, anche se tu lo sapessi, non ti sbilanceresti neppure sotto tortura, che il velocista, come si chiama il velocista? Aiutami, il velocista che è nella foto? Velocista McLeod? No, no, l'altro. Gemili? Eh, e mi dicono che potrebbe essere un altro nome? Sei nulla? No. Può darsi che qualcuno ci possa essere o non ci possa essere, quello gli organizzatori lo sapranno. Certamente, no, so che insomma esisterebbe questa possibilità per Gemili, ma ancora non è stato ufficializzato. Invece Gabriele è stato ufficializzato, Johannes Vetter, sicuramente tu essendo un uomo di sport a tutto tondo, sai di chi parliamo, parliamo di un signore, questo ragazzo tedesco, che quando prima dicevo di 31 anni, se non sbaglio, 97-76 nel giavellotto, questo nel 2017, credo, a 76 centimetri da quello che credo sia stato il numero uno nella storia del giavellotto mondiale, il cieco Jan Zelensny. No, certo, è di sicuro una bella opportunità e un onore avere un atleta come lui qui, che lancerà il look, perché di sicuro darà spettacolo, perché sembrerebbe anche che sia in forma. Ricordiamo che è stato fermo un anno, ha avuto qualche problema fisico, però è un atleta che so anche che insomma, con gli organizzatori, avrebbe parlato di misure intanto intorno agli 85 metri. Sì, esatto. Che comunque sono misure che non fanno tutti, tutti i giorni. No, quindi di sicuro... Dobbiamo avere nella testa 97 metri, la fatti forse nel momento all'apice della sua carriera, poi adesso ci sono le Olimpiadi fra tre mesi, quindi... Quindi diciamo un po' l'anno, che è l'anno olimpico, quindi di sicuro sarà in una certa forma e quindi sarà bello vederlo lanciare qui a Lucca. Speriamo non arrivi sulla pedana del lungo con il giavellotto, che è dall'altra parte. No, no, speriamo proprio di no. Ma ecco, credo che insomma il settore dei lanci, no Dario, dei concorsi, chiamiamoli così, dei lanci, nel disco, lo abbiamo già detto nel peso, gli atleti che ci sono, Fabri, Zanewaire, poi anche il sudafricano, di cui non ricordo il nome. Nel martello dovremo avere sempre una bella gara, il giavellotto, quindi diciamo che quest'anno mi sembra un meeting che forse ha le sue gare clou, poi non è detto proprio nei lanci. Serto, sicuramente il meeting è anche favorito, anche dall'upgrade del grado. Naturalmente ora da un grado E è passato a un grado D, quindi è diventato un challenge, quindi anche in ottica... Dopo soli due anni, possiamo dire. Certo, dopo soli due anni, quindi anche in un'ottica al campionato europeo di quest'anno, al campionato Olimpiade, ha anche un punteggio diverso nel ranking per gli stessi atleti. Sì, perché ricordiamo, 19 maggio, domenica 19 maggio, terzo meeting internazionale città di Lucca, in pratica due settimane dopo il campionato europeo a Roma e poi più avanti ancora le Olimpiadi, quindi ci sarà da divertirsi. Senti Gabriele, ma la stagione dell'invernale è finita, sì? Sì, è finita. Si muove qualcosa nel mondo degli sport invernali, in questo caso noi ogni tanto ne abbiamo parlato, grazie anche all'amico Marco Guidotti che salutiamo, perché il biathlon, lo dico subito, è una disciplina che io personalmente considero meravigliosa, da noi forse ora un pochino di più è conosciuta, grazie anche a Lisa Vittozzi, agli altri, però insomma in Germania è uno sport nazionale tanto per essere qui. Diciamo che in Italia si è sviluppata, c'è ancora margine di sviluppo per farla conoscere, qui in Toscana purtroppo è poco sviluppata, ma noi con la Focolaccia stiamo cercando di farla conoscere a più persone possibile, abbiamo in mente qualche iniziativa da fare. Dimmi la cosa, ma le azzurri tornano? Le azzurri tornano? Perché Lisa Vittozzi, se è un po' scaramatica, potrebbe anche tornare. Purtroppo gli azzurri quest'anno non torneranno a Lucca perché hanno, durante il periodo che dovevano venire a Lucca, saranno a Sappada, Fornia Voltri, dove arriva il Giro d'Italia, quindi hanno richiesto la loro presenza lì e quindi ne approfittano per fare il ritiro. Però vedi c'è un legame con Lucca perché quest'anno il Giro arriva anche da noi, quindi... Eh, però l'hanno visto l'anno scorso. Vabbè, comunque complimenti a te e a Marco per tutto quello che state facendo, perché insomma, ripeto... Soprattutto a Marco. Eh, lo so, lo so. Dario, allora, CDS, perché abbiamo detto del meeting, va bene, CDS l'11, sabato 11, domenica 12 maggio, siamo qui, eh? Certo. Siamo in casa. Ci sarà da conquistare la finale. Tu farai 400 e staffetta del miglio, penso. Sì, sicuramente farò 400 e staffetta del miglio, inserirò magari un 200 la domenica, quello più che per la squadra personalmente, poiché comunque i velocisti fortunatamente sono buoni, quindi porteranno punteggi sicuramente migliori del mio, però comunque sia saremo qui tutti insieme, sia la squadra assoluta femminile che quella maschile a lottare per le rispettive finali. Sei fiducioso, nel senso che voi, come squadra maschile, dovreste confermare il punteggio che poi potrà essere eventualmente ancora implementato, sempre fatto l'esempio di Marcel Jacobs, se il giorno prima del meeting lui debutterà a Roma, no, nella velocità, facesse, ipotizziamo, un 10 netto sui 100, anche quel punteggio va a sommarsi, no? Allora, quest'anno le dinamiche di CDS sono leggermente differenti, poiché dobbiamo confermare tutto nella prova unica dell'11 e 12 maggio. Io sono fiducioso che tutte e due le squadre, sia la maschile che la femminile, riescano a confermare il punteggio per le rispettive finali. Le squadre non sono male e poi sperando di entrare in finale, in finale lotteremo per una delle prime posizioni per cercare, chissà, più avanti di ritornare in serie a oro. Quindi mi stai dicendo, garantiamoci con la squadra maschile l'argento, con quella femminile il bronzo, poi vediamo cosa succede. Poi vediamo quello che succede, tra l'altro almeno fino a pochi giorni fa, a parte la sede di, credo, di Modena per la finale oro, non so se è uscita in questi giorni le sedi delle altre finali, ancora non sono uscita, non è che ci ritroviamo una finale argenta anche qui, anche quella, no? Non lo so, va bene. Senti, i cadetti come vanno? Il vostro gruppo, anche recentemente avete fatto, mi sembra, degli ottimi risultati. Sì, abbiamo, quest'anno stanno andando veramente bene i ragazzi, abbiamo i cadetti che sono primi. Parliamo di classifica regionale. Regionale non della divisione, ma proprio regionale. Sì, di tutta la Toscana. Esatto, sono primi, mentre le cadette dovrebbero essere terze a pari merito. Quindi risultati che, nel senso, forse non abbiamo mai avuto, mi sbilancerei a dire. Quindi, ora, questo sabato, abbiamo i CDS a Pistoia e i ragazzi sono sicuro che... Non un'ulteriore fase, una seconda prova. La terza fase. La terza prova sarebbe della fase regionale. Esatto, e poi dopo ci sarà la quarta e la finale. Ma per andare alla finale nazionale cosa bisogna fare? No, la finale rimane regionale. Ah, regionale. Esatto, poi se qualche cadetto fa dei minimi per andare alle fasi nazionali, allora... A livello individuale. Esatto, a livello di regione, via, vengono portati come rappresentativa Toscana. Quindi la Virtus nei cadetti c'è soltanto una finale regionale. Ma a questo punto dire un po' di... Ma non mi voglio sbilanciare troppo, però probabilmente potrebbe arrivare quasi... Siamo molto fiduciosi. Soprattutto con i ragazzi, mi sembra. Sì, con i cadetti. Esatto, con i cadetti. Eh, vabbè, comunque. Invece, torno a Dario, siamo quasi in chiusura. Dario, ne abbiamo parlato qualche mese fa, quando sei venuto a trovarci, allora, nei nostri, all'epoca, nei nostri studi. So che hai una gara, tra l'altro, fra poche ore, tempo permettendo, perché anche oggi qui, sul Lucca, non ha fatto altro che piovere. Certo, allora, io tu risordirò tra domani e l'altro, a Modena. Siamo a martedì sera, 25 aprile. Sì, 25 aprile, meeting della liberazione a Modena, una delle tappe più conosciute, insomma, nell'atletica regionale. Toscana, Emiliana, tra il mio di liberazione a Siena e quella a Modena. Lì c'è la fratellanza a Modena. Certo, c'è la fratellanza a Modena, quindi incrociamo le dita. Fai 400, ma. Certo, faccio 400, che sia una buona stagione. E vediamo, dai. Prima gara, non ti poni... Prima gara, senza troppe aspettative, andiamo, divertiamoci e cominciamo la stagione che speriamo sarà lunga. Diciamo qualcosa di più interessante, vorresti già proporlo qui. Profeta in patria, diciamo. Eh, vediamo. Va bene, ti ringrazio, Dario. Grazie a te, Guido. Grazie, grazie a Gabriele per tutto quello che fai, per la Virtus, per tutto il resto che abbiamo detto. Noi torniamo martedì prossimo, sì, martedì prossimo 30 aprile. Beh, ci avviciniamo davvero a grandi passi, a due grandi, grandissimi appuntamenti della Virtus. Duca, parlavo sia con Sergio, con il vicepresidente Sergio Martinelli, che con altri dirigenti che erano qui prima della puntata di A Tempo di Atletica. Hanno un pensiero loro, quello del meteo. Io mi auguro davvero, c'è ancora qualche settimana che Giove Pluvio ci venga incontro, perché insomma, credo che innanzitutto il pubblico che verrà, gli atleti e ancora di più tutto quello di grande che sta facendo la Virtus. Duca, meriterebbero, meriterebbero quello che vorremmo tutti quanti, gran belle giornate di sole. Però questo, almeno per ora, anche se qualcuno dice che in realtà non è del tutto così, non possiamo fare altro. Grazie di nuovo ragazzi, grazie a Simone Andrucetti. Appuntamento con A Tempo di Atletica, martedì prossimo 30 aprile, ancora alle ore 20. Buonasera. Grazie a tutti.